Questa è via l'alberato, via l'alberato è circondato sulla sinistra da un giardino immenso, lì ci starebbe bene anche una piscina detto tra noi, ci si potrebbe stare tranquillamente al sole, mentre sulla destra l'oliveta, la tenuta però ha tutto intorno parecchi ettari di terreno, di cui una parte boschivo, una parte adatta per percorsi di trekking, passeggiate, perché si arriva fino a un fiume o quantomeno fino a un laghetto che si trova qui nella zona che ancora non c'è stato dato di vedere e qui c'è la zona romantica in fondo al vialetto, sembra quasi di essere in un romanzo di fino a 800, e qui sotto c'è la vigna, chiaramente la proprietà delimitata dalla rete, che bel panorama!